Ben trovati cari amici al telegiornale di media 24. Da quando un mese fa è iniziata questa maledetta guerra ogni giorno abbiamo aperto il nostro telegiornale con un commento sul tema e d'altra parte un evento di questa gravità in natura ha un tale portato di interrogativi e di incertezza che non può non essere costantemente monitorato nella sua evoluzione. Abbiamo visto e l'abbiamo ampiamente commentato come a differenza della pandemia questa guerra ponga in essere inquietudini e paure che sono ben più forte del contagio virale. Per quest'ultimo il vaccino ci ha permesso di contenerne la diffusione e di vivere una vita abbastanza normale soprattutto ha permesso che l'economia corresse con risultati che per l'Italia sono stati molto lusinghieri. Ma per questa guerra il vaccino della pace non dipende da un laboratorio ma dalla volontà degli uomini e qui si entra in un ordine di fattori che non è detto ci porti verso una soluzione negoziata del conflitto. Le parole grosse che volano tra Russia, Stati Uniti ed Europa segnano ogni giorno un allargamento della faglia che divide Occidente da Oriente e per chi auspica la via diplomatica le speranze si affievoliscono ogni giorno che passa. Guerra sul campo, guerra economica, guerra di nervi. Le sanzioni non fanno male solo al Cremlino ma riverberano i loro effetti anche su di noi. Proprio oggi gli imprenditori segnalano che le materie prime scarseggiano sempre di più e che questo potrebbe ricadere soprattutto in un paese manifatturiero come il nostro con pesanti conseguenze sul piano economico e occupazionale. Le ottimistiche previsioni che prevedevano per il 2022 un'ulteriore crescita del 4% della nostra economia sono inevitabilmente riviste al ribasso e dunque quella linea di sviluppo fondamentale per aumentare il PIL e ridurre il nostro debito pubblico si interrompe, ossia accorcia pericolosamente. È facile prevedere che quando le situazioni cominciano davvero a complicarsi, quella compattezza politica che fino ad oggi ha caratterizzato la politica interna italiana e quella europea cominci a scricchiolare un po' e quando questo accadrà ed è facile pensare che ciò succederà molto presto, il fronte occidentale non sia più quella roccia granitica che fino ad oggi si è contrapposta all'aggressività russa. Questa è la forza e la debolezza delle democrazie, ma deve essere chiaro a tutti che se la democrazia e la libertà sono valori a cui non vogliamo rinunciare, di fronte al pericolo di chi ce le vorrebbe togliere si impongono scelte difficili, ma necessarie. E secondo l'Unicef dall'inizio della guerra sono oltre un milione e mezzo i minori fuggiti dall'Ucraina, alcuni con la madre o da altri parenti, altri da soli. Ai più fragili e indifesi hanno pensato l'assessorato alle politiche sociali e welfare di comunità del comune di Pordenone e l'ambito territoriale sociale noncello, lanciando la campagna Famiglia Amica, Accoglienza e Protezione Familiare. Le famiglie disponibili ad accogliere i minori con la formula dell'affido sono infatti invitati a contattare il comune per ricevere tutte le informazioni necessarie. Come stabilisce l'autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tutti i minori stranieri che entrano nel nostro paese devono essere registrati e censiti e va accertata l'esistenza di un rapporto di parentela con i loro eventuali accompagnatori. Per quelli che invece arrivano soli si deve procedere immediatamente alla segnalazione al Tribunale per i minorenni per una rapida nomina del tutore volontario e la presa in carico da parte dei servizi sociali del comune. Il comitato di partecipazione dell'azienda sanitaria pordenonese, l'organismo istituzionale di coordinamento tra azienda sanitaria e le associazioni di volontariato socio-sanitario e di tutela dei diritti del cittadino, ha ripreso la sua attività e si è formalmente reinsediato nell'incontro tenutisi lo scorso 22 marzo. Si è quindi anche formalmente riaperto il confronto operativo tra direzione aziendale e rappresentanti del mondo associativo dell'area vasta pordenonese, che comunque anche durante il difficile periodo dell'emergenza Covid ha potuto contare sull'impegno del volontariato nel fronteggiare le criticità legate alla pandemia. Nell'incontro sono state delineate le modalità di funzionamento e di lavoro congiunto tra associazionismo di settore e azienda. Al riguardo è stata decisa la costituzione di tavoli di lavoro specifici per garantire uno scambio informativo aperto ai professionisti direttamente impegnati nei processi di cura e di assistenza. E sempre l'azienda sanitaria pordenonese informa che prenderà il via nei prossimi giorni la campagna per la vaccinazione anti-herpes zoster, che come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale per l'anno in corso, è offerta gratuitamente ai nati nel 1955. La campagna di vaccinazione 2022, che proseguirà fino al fine dell'anno, è rivolta ai 3.500 residenti nella provincia di Pordenone, che saranno invitati tramite lettera a recarsi presso gli ambulatori o gli hub vaccinali che sono stati utilizzati per il Covid. In occasione della vaccinazione herpes zoster sarà offerta anche il richiamo per la vaccinazione contro il tetano. E come avevamo già riferito, sono stati inaugurati i nuovi uffici del posto di polizia ferroviaria di Pordenone. Il posto di polizia ferroviaria è un presidio della polizia di Stato, perfettamente inserito nel contesto organico delle forze dell'ordine della città ed è attivo nella prevenzione e nel contrasto di tutte le tipologie di illecito che interessano il mondo ferroviario. Nel 2021 il posto Polfer ha visto l'impegno di 483 pattuglie in stazione e 210 a bordo treno, garantendo servizi su 540 convogli e assicurando una costante attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi e delle situazioni di degrado in ambito ferroviario per una maggiore sicurezza dei viaggiatori. Tale attività ha permesso di denunciare 21 persone e di controllarne oltre 6.000. Con la conclusione del primo quadrimestre arrivano anche a Gorizia i primi premi legati all'iniziativa Digi e Lode di Amga Energia e Servizi Gruppo ERA per sostenere la digitalizzazione delle scuole. Due sono gli istituti della città che sono riusciti, grazie alla collaborazione di studenti e famiglie, a posizionarsi in cima alla classifica dell'iniziativa. La secondaria di primo grado Locchi di Largo Cugliat e la primaria Sant'Angela Merici di Via Palladio. A ciascuna di loro va un assegno di 2.500 euro da utilizzare per l'acquisto di materiali e strumenti per la digitalizzazione scolastica. Domani, sabato 26 marzo, sarà dedicato alla figura del senatore Bruno Giust il giardino tra le vie Carnia e Cimogliana nel quartiere del Sacro Cuore a Pordenone. Un doveroso tributo a uno dei padri della cooperazione friulana e pordenonese che ha lasciato un segno profondo della sua opera di politico e di uomo impegnato nel sociale. Uomo mite, ma non per questo meno forte e risoluto, una delle espressioni più autentiche del cristianesimo sociale, Bruno Giust è stato una delle figure più importanti della democrazia cristiana pordenonese, ricoprendo molti importanti incarichi come amministratore regionale e senatore della Repubblica. Ma il suo impegno nella cooperazione è stato il filo conduttore che lo ha accompagnato sempre, convinto com'era che la cooperazione fosse lo strumento più efficace di democrazia economica di sviluppo legato alla dignità dell'uomo. Personalmente ero molto legato al senatore Bruno Giust questo riconoscimento gli è dovuto per la sua importante testimonianza umana e politica. E sempre domani, sabato 26 marzo, con inizio alle ore 11, si terrà la cerimonia di intitolazione a Don Eugenio Blanchini dell'area verde all'incrocio tra Via Solari e Via Pellizzo a Udine. Don Eugenio è stato parroco di San Giorgio Maggiore di Udine dal 1899 al 1921. Originario della Slovenia, fu operatore di carità e sostenitore dei ceti più disagiati, con particolare attenzione ai giovani e agli emigrati. Fu fondatore di una cassa operaia e teorico di riforme dell'economia agricola della Slavia friulana. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco Fontanini, il segretario di Stato della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo, dottor Dejan Valentincic, monsignor Luciano Nobile e l'assessore Alessandro Ciani. E torniamo ad Azzano X in occasione della presentazione della candidatura a sindaco del centrodestra di Angelo Bortolus, per farvi ascoltare le interviste all'esponente di Forza Italia Mara Piccin, al segretario regionale della Lega Marco Dreosto e alla sottosegretaria Vagna Gava. Fra le tante autorità e personaggi che sono venuti a corsi a sostenere il candidato Angelo Bortolus, anche con grande piacere presento la rappresentanza di Forza Italia Mara Piccin, che è proprio qua per spiegarci anche lo sviluppo di questo percorso che dovrà vedere Angelo Bortolus, sindaco a Azzano X. Sì, Forza Italia non ha avuto alcun tentennamento e assieme con la parte civica della nostra lista, perché la nostra lista si chiama Libertà per Azzano Forza Italia, sostiene una persona di grande esperienza e di grande spessore come Angelo Bortolus, una persona radicata su questo territorio, una persona che ha fatto l'amministratore all'interno di questo comune, una persona che ha raccolto le richieste che sono pervenute dal basso e dal territorio alla sua candidatura a sindaco, quindi non si è candidato lui ma gli è stato chiesto di candidarsi e di mettersi a disposizione. Una coalizione unita su un sindaco, un candidato sindaco che è una persona capace, un professionista capace, concreto e che saprà fare bene il sindaco a Azzano X. Siamo un supporto, siamo tutta la squadra, chi ha voglia di sostenerlo vedo tantissima energia, vedo tantissima gente che è qui oggi proprio a sostegno suo e di tutta la squadra. Ringraziolo a coalizione e ovviamente il candidato sindaco che si è messo a disposizione. Ci troviamo a Azzano evidentemente perché è una giornata importante dove dobbiamo in effetti lanciare la candidatura di Angelo Bortolus, una persona che ha già fatto l'amministratore, una persona molto in gamma anche dal punto di vista professionale che può dare veramente grandi spunti e grandi opportunità anche a questo territorio. Io ritengo che ci troviamo in un momento particolarmente difficile dove la congiuntura geopolitica internazionale sta determinando anche delle criticità a livello locale ma è proprio in questi momenti che servono gli amministratori locali in grado di portare un valore aggiunto per dare risposte soprattutto ai cittadini. Quindi il nostro auspicio è che Angelo Bortolus possa diventare sindaco di Azzano X e possa dimostrare come i sindaci del centrodestra e anche i sindaci della Lega stiano facendo bene e facciano bene anche in questo territorio. Il 3 aprile prossimo si celebra la Fiesta de Patrie dal Friul per ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano. Il Comune di Udine con il sostegno della Regione e dell'Agenzia regionale per la lingua friulana organizza diverse iniziative. Il programma prenderà avvio in Piazza Libertà alle ore 8.30 con l'esposizione della bandiera del Friuli sulla specola del Castello di Udine. E le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia al centro dell'evento organizzato da Grand Shopping Belforte di Monfalcone in collaborazione con De Gusto, il contenitore in cui le aziende agroalimentari del territorio hanno la possibilità di presentare i propri prodotti accompagnando i visitatori attraverso un percorso che, partendo dalla tradizione, percorre tutta la filiera produttiva fino alla degustazione. Da oggi e fino a domenica una quindicina di aziende saranno presenti con i loro prodotti tipici negli stand che verranno allestiti nella Galleria del Belforte insieme ad una serie di show cooking e workshop in cui i produttori illustreranno le caratteristiche dei cibi e dei vini. Ruota attorno al concetto di confine e ai suoi significati interrogativi il nuovo progetto dell'Associazione Culturale Tesis di Pordenone, che amplia la programmazione dello storico percorso, adotta uno spettacolo curato da Emanuela Furlan, un progetto che ha già raggiunto un risultato straordinario. Sono infatti oltre 2.000 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che vi hanno aderito. Si tratta degli istituti Mattiusi Pertini e liceo Leopardi Majorana di Pordenone, del Sarpi di San Vito al Tagliamento, Galvani di Cordenons, dei licei Puiati di Sacili e Torricelli di Magniago e del liceo Marinelli di Udine che fino al 29 aprile saranno impegnati in una fitta serie di iniziative insieme ai loro insegnanti. Il progetto Confini prevede a partire dal prossimo 5 aprile un percorso aperto anche al pubblico con diversi appuntamenti artistico-culturali. Quest'anno l'Associazione Torre di Pordenone promuove un evento culturale per valorizzare personaggi, luoghi e storie dello storico quartiere cittadino. Per l'iniziativa è stato cognato un termine dialettale che fornisce nel modo più popolare l'idea di far emergere personaggi e luoghi nella maggior parte dei casi sconosciuti ai nostri concittadini. Gli argomenti scelti per la prima edizione sono la letteratura e il giornalismo. Torre, tre itinerari sentimentali alla ricerca del tempo perduto e il testo scritto ed illustrato da Laura Battistella, una vera e propria guida sentimentale che riscatta il periferico quartiere di Torre per riscoprirne l'essenza di Borgo. Il momento clou della manifestazione è invece rappresentato dall'incontro con tre fratelli di Torre che hanno avuto successi nel mondo della letteratura e del giornalismo. Arrigo, Luigi e Giovanni Buongiorno, i tre appartenevano a una famiglia composta da ben nove fratelli e abitavano a Torre Bassa in quello che veniva chiamato Borgo Gabbana. La loro passione giornalistica e letteraria li ha portati a collaborare con importanti testate e con la RAI. L'associazione tra riguardo chiede che il comune di Pordenone conferisca loro un riconoscimento della città. Il non felice campionato del Pordenone sta facendo discutere i tifosi neroverdi e il presidente della società Mauro Lovisa è intervenuto, si fa per dire la gamba tesa per dire la sua. Nessuno manca di rispetto, mette in discussione i tifosi neroverdi che ci sono sempre, ha dichiarato. Ho chiamato e chiamo in causa invece gli assenti. Non capisco perché i nostri ultra, e mi dispiace molto di ciò, si siano sentiti destinatari delle mie dichiarazioni post-Brescia. Loro, il fan club e gli altri sempre presenti sono da considerarsi dei nostri. Hanno sempre dimostrato la loro fede neroverde, anche in trasferta. Tutti gli altri dovrebbero unirsi o riunirsi a loro, tifare insieme. E invece dove sono queste persone? Se chi quest'anno sia abbonato al divano o ai social fosse stato presente allo stadio, qualche punto in più l'avremmo probabilmente fatto. Si va di bene, non è assolutamente un alibi per la squadra e per la società che ha ammesso i propri errori, ma una legittima constatazione dopo che il nostro progetto tanto ha dato al territorio sul piano sportivo come su quello sociale. Queste sono le dichiarazioni di Lovisa che sicuramente continueranno a fare discutere. Ed è arrivato l'appuntamento più importante della stagione agonistica primaverile. Dal 26 al 30 marzo si svolgeranno a Riccione i campionati italiani di categoria che finalmente ritornano in vasca dopo due anni di stop. 8 le atlete schierate dalla Ginnagium Friulovest Banca che saranno in gara nella prima parte del campionato. Anna Chiara Portolan nei 200 dorso, Chiara Lucchese nei 50 100 e 200 rana, Elisa Franceschi nei 50 100 e 200 rana, Letizia Facca nei 50 100 e 200 delfino e 400 misti, Rebecca Mazzucut nei 50 e 100 dorso, Emma De Iuri nei 200 rana, Irene Mestroni nei 50 stile libero e 100 delfino ed Elena Savià nei 50 100 200 400 e 800 stile libero. Nella seconda parte in gara il settore maschile con Ettore Nanetti nei 50 100 e 200 delfino, Riccardo Favotta nei 50 100 stile libero, Stefano Infanti nei 400 stile libero e Ruben Zammattio nei 200 e 400 misti. Il nostro in bocca al lupo ai giovani nuotatori della Ginnagium Friulovest Banca. Ed è stata presentata in municipio a Pordenone la ventitresima edizione di Iron Fighter, importante carmes di sport da combattimento promosso dall'associazione Combat Gym di Fiume Veneto che da cinque anni organizza questa specialità negli impianti sportivi del capoluogo. Vediamo il servizio. L'assessore allo sport Walter De Bortoli presenta la ventitresima edizione di Iron Fighter, sport da combattimento di caratura internazionale che avrà luogo il 27 marzo al Pallaflora a partire dalle 14. Un appuntamento ormai consolidato ed è uno sport molto particolare. Ho riscontrato che in questi atleti c'è un grandissimo rispetto dell'avversario. Difatti ci sono atti e gesti che l'avversario compie quando è in difficoltà perché l'altro si fermi immediatamente sul combattimento. È una preparazione fisica e atletica molto importante e anche psicologica per cui non tutti penso la possono fare ma soltanto i più tenaci e più costanti negli allenamenti presso una palestra seria dove l'istruttore deve avere grandi qualità. È la Combat Gym che organizza questa manifestazione ormai puntualmente ogni anno ha tutte queste qualità non soltanto per far esercitare o allenare questi ragazzi ma anche poi per organizzare una manifestazione come questa di carattere internazionale. Il sindaco Alessandro Siriani mi dice di congratularsi con la Combat Gym che aveva scelto Pordenone ancora una volta facendo i complimenti anche agli atleti impegnati nel campo soprattutto quelli che rappresentano l'Italia, la nostra città e anche la Combat Gym di Pordenone. Gian Battista Boer, tecnico e presidente AS di Combat Gym che la organizza, ci spiega il valore e l'importanza di questa disciplina nel panorama sportivo. È un successo che deve ripartire perché dopo due anni di Covid che siamo stati bloccati è praticamente lo sport per antonomasia di questa disciplina che va avanti da 23 anni. Ormai è la prima del 2000 che proponiamo questa Kermess con atleti e campioni che sono venuti da tutto il mondo e che hanno caratterizzato le varie discipline che hanno fatto questo Iron Fighting che ha preso il nome già da lontano 2000. Quest'anno più delle altre volte abbiamo aumentato ancora di più e siamo arrivati al titolo mondiale, un titolo mondiale ridato molto atteso anche perché una cintura come quella che proponiamo penso sia la cintura più ambita al mondo proprio per la tipologia della sigla. Isca è una sigla mondiale infatti sulle due flange laterali ci sono impregnate tutti i paesi in cui questa sigla viene usata. È una sigla mondiale per cui avere una cintura del genere in casa sia come società che come atleta ha un pregio veramente importante. Domenica quindi da seguire gli incontri in cui si affronteranno atleti di varie categorie dai bambini agli adulti e campioni per la conquista di due titoli italiano nella categoria 87 kg e mondiale dell'isca superiore ai 100 kg. Bene amici di media24 con questa ultima notizia noi abbiamo concluso il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre della vostra amicizia e vi auguro un cordiale in alto i cuori. Grazie a tutti.